Buongiorno mister, siamo qui per l'intervista. Una partita strana, una partita forse un po' più rissosa nella parte finale della partita. Come valuta questa sconfitta, diciamo inaspettata sulla carta? Una partita che negli episodi poi è diventata caotica. Ma una partita dominata dal primo minuto con almeno 7-8 palle gol da noi. Sì, purtroppo abbiamo sbagliato tantissime palle gol. Abbiamo dato la possibilità a loro, che sono pericolosi davanti, di farne uno. Poi il rigore è sbagliato, ha portato praticamente sguarnita, abbiamo preso un palo e tante altre volte. Ma io della prestazione sono molto molto contento. Io ho visto veramente quasi un dominio totale anche in 10 uomini del campo. Quindi sono soddisfatto della prestazione. Come valuta anche il fischio del rigore alla fine della partita? Il fischio del rigore io non ero più in campo, ma devo valutare la prestazione. La prestazione è stata quasi a senso unico. È stata una partita dove noi abbiamo preso in mano il palino del gioco su un campo difficile. Abbiamo concesso qualche contropiede. Abbiamo, ripeto, fatto benissimo anche in 10. Abbiamo attaccato praticamente 85 minuti. Quindi la prestazione. Se andiamo a vedere gli episodi, stiamo qui magari una mezz'oretta a discutere. C'è un fallo evidente e un secondo giallo non dato. C'è l'espulsione del nostro Gallotti con una manata vicino. C'è rigore. Ci sono tanti episodi. Se valuto la prestazione sono ampiamente soddisfatto di quello che ho visto. Ovviamente ripartirete dalla prossima partita. Avete ovviamente in zona play-off. Puntato ovviamente in alto. Noi puntiamo alla salvezza, che è il nostro obiettivo di inizio. E se dovessimo arrivarci prima, la salvezza, alzeremo di partita in partita. Se saremo bravi un po' l'asticello. Ma noi siamo partiti per fare una salvezza diretta. E sarebbe un successo incredibile farla. Per la nostra società, per i nostri colori. E quindi puntiamo a quello. Poi se siamo bravi, che abbiamo ancora un po' di tempo, vedremo di toglierci delle soddisfazioni. Grazie mille a me, è stato un piacere. Grazie, grazie a voi.